Nessuna chiusura preventiva del centro storico di Lucca, ma un piano da fare scattare in caso di eccessivi affollamenti. Così la città si prepara a rivivere l'atmosfera di Comics & Games in presenza dopo l'insolita edizione online fatta l'anno scorso. Non sarà ovviamente una manifestazione da grandi numeri. In complesso, per i quattro giorni della rassegna, sono stati messi in vendita solo 90.000 biglietti, praticamente 22.500 visitatori paganti al giorno. Spazi più larghi in cui muoversi, oltre al centro storico, si ritorna al Palatagliate, dove tanti anni fa si concentrava quasi tutto, e al Polo Fiere. Ma c'è un'incognita di cui si è tenuto conto nel vertice per l'ordine pubblico che si è svolto in prefettura. La grande folla che si registrava negli ultimi anni era composta, almeno in parte, da cosplayers e visitatori non paganti. Ci auguriamo che non ci siano affollamenti particolari, ma ci siamo attrezzati con un sistema flessibile, capace di intervenire anche per affrontare questa situazione. Dunque un piano flessibile per far defluire la folla, chiudere provvisoriamente alcune aree a chi non abbia il biglietto, e a vigilare oltre 100 agenti ogni giorno. L'appello è anche ad arrivare in treno. Dal 29 ottobre al 1 novembre, infatti, Trenitalia ha predisposto 100 treni straordinari, in pratica 250.000 posti, e nell'occasione ha presentato anche un nuovo convoglio, l'undicesimo dei 29 treni ROC destinati alla Toscana.